Sono le 13, le comincio il telegiornale. Ah, grazie, signora Norma. Cosa fa Pulisci? Signora stavo leggendo il giornale, ho mica fatto un picnic. E' sempre fuori, non so dove si è appoggiato. Come lo so, sono stato seduto al bar, o mica mi mancato la stazione centrale. Il bar è pur sempre un locale pubblico. Lo so, e allora? E allora il pubblico sporca. E allora vado a pulire il bar. Io pulisco l'ambiente nel quale devo vivere. Signora, la moglie del portiere ieri ha ripulito la casa da cima a fondo. Va bene la pulizia, ma insomma non esageriamo, ecco. Poi, microbi e batteri sono dappertutto, ce li abbiamo anche addosso, sa. Ma parli per lei. Perché lei invece è sterilizzata, eh. Cosa fa? La doccia della nuova piatta a 100 gradi con risciacquo. Adesso non esageriamo. Senta, io non le chiedo di pulire. In via del tutto eccezionale pulisco io. Signora, sa come si chiama questa sua mania? Come no? Elogio dell'igiene. No, elogio della follia. La sua unafissazione. Se continuo così finirà che mi manderei in giro con la mascherina sulla bocca. Sa che non sarebbe una brutta idea? Lei si difenderebbe dai batteri. E io difenderei le mie orecchie delle sciocchezze che dice. Signora Norma, per sua norma è regola. Io non dico sciocchezze. Semmai le faccio, va bene? Senta, se non las mette le aspiro la lingua. Si, probi. E io le aspiro lo stipendio. A me le aspiro. E io le aspiro la lingua. a che ora arriva l'allegra brigata a franco e ginevra passano a prendere i bambini alle sette e poi vengono qui io avrei pensato un menù per il pranzo non vuol saperlo adesso non vorrei vedere e sentire il telegiornale sempre cattive notizie poi si deprime diciamo che mi voglio deprimere o mi lasci deprimere in santa pace come crede domani bisognerà far venir su una portiera per pulire signora guardi che accena viene la mia famiglia mica un branco di cinghiali sa però le briciole cascano e gli insetti che non chiedono altro e per qualche bricio la leva per pulire tutta la casa le briciole vanno sotto i piedi si attaccano e i piedi non si sa dove vanno a finire io saprei dove far finire il mio anziana signora attenta una strage perché i suoi familiari avevano sporcato in casa la signora gilda di parabiago aveva appena passato la cera quando sono entrati in casa il figlio e due nipotini di 3 4 anni sporchi di fango la signora ha cominciato a urlare la testimonianza dei bambini sopravvissuti sembra che abbia colpito il figlio con la scopa per poi gettare i piccoli dalla finestra fortunatamente l'appartamento si trovava al primo piano ah beh ma è proprio matta quella lì non più che matta stupida si vede che era stufa di questi sporcaccioni dentro casa ha avuto un momento di nervoso nervoso e lei me lo chiama nervoso certo perché il raptus è una cosa che esplode passa capisce invece la pazzia la vera follia quella è lenta esplodere prepara i suoi piani quando esplodono non c'è scampo perché mi guarda così signora mi fa paura lei poi lei cosa ne sa scusi lei non ha mai pensato di sopprimere qualcuno si qualcuno si sempre qualcuno che si pensa che se lo meriti va beh d'accordo però fra pensare e il fare c'è di mezzo al raptus sempre però sempre no ma qualche volta si la follia invece cova signora adesso è lei che mi deprime costi discorsi e poi insomma faccia un po come vuole ecco senti cosa dice mi ha messo addosso un'agitazione quella lì la signora gilda non aveva mai dato segni di follia a parte una maniacale fobia per le pulizie è come la norma questo episodio fa nascere una domanda una domanda legittima quanto conosciamo noi le persone che ci vivono accanto quanto possiamo prevenire il loro raptus quanto possiamo stare tranquilli fra le nostre mura domestiche quanto noi non lo sappiamo ma mi invitiamo a riflettere no ma per oggi non abbastanza addosso un angoscia sto telegiornale signora mi diceva del menù di stasera senta per cominciare avrei pensato un consomme delle crudite si ma da manger cosa c'è e sarò anche greve ma ho brodo e verdure non sono il mio forte facciamo una cosa parliamo un po peggio e noi le mangiamo un po meglio e le depennano anche le crudite cosa vuole signora norma io conosco i miei polli e va in morena non sono mai sazie franco è un pozzo senza fondo ginevra poi è romana e le piace mangiare saporito come tutti i romani del resto perciò inventiamoci qualche cosa all'altezza che so ecco una bella teglia di lasagna al forno una teglia poco eh facciamo due ragione ma quanto mangiano come le cavallette e in più sono buon gustai giù il dito per favore io avrei preparato appunto un Vitteltonè come predittivo è perfetto ecco questo è pronto mi sembra venuto benino mancano solo i capperi si dunque i capperi dove li ho messi aspetta i capperi i capperi mi sembrava di averli messi qui però no sono ancora qui da vasetto dei capperi ahhh Dio uno scarafaggio che mi schifo uno scarafaggio povera me ma Dio questa casa è uno zoo dicono con la mania della polizia ma qui mi manca una zebra poi faccio un safari pari maledetta ti so primo io cosa fateci parla da sola quella lì ah io ti so primo mi dispiace maledetta ma guarda un po altro che essere vivente sei un insetto mi fai schifo non mi fai neanche pena proprio viene qui con tutta la famiglia a mangiare a sbaffo ah ma questa volta io odio ti so primo non c'è scavo il cucito ti schiaccio oddio ce l'avrà mica con me e con tutta la mia famiglia quella lì essere schifoso prima ti avveleno poi ti schiaccio così la finisci di sporcare dove io pulisco ma ora ce l'ha proprio con me e la mia famiglia oh signore raptus quando avrai assaggiato questa robina sarai solo un ricordo tu e tutta la tua progenie oddio come lucrezia borgia anzi come la gilda ripara a biago quella del telegiornale e adesso cosa faccio felice vai di là e spezzala in due fermo felice fermo felice se quella prende il coltello ricordati che i matti vanno assecondati ecco forse è meglio avvertire la polizia si 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 avverto la polizia e anche franco e ginevra già qui? è possibile che ogni volta che le rivolgo la parola si spaventa? eh come? spaventato io? no era un grido di gioia ah ecco si si di gioia eh non esulti tanto che può venire un infarto eh le piacerebbe? ma cosa dici? no dico un infarto è via non ci si pensa più e soprattutto non si rischia niente sì eh dicevo così meglio che morire avvelenati vero? la vedo un po' strano io io eh? lei invece sta bene vero? oh io sto benissimo anzi sono veramente contenta non vedo l'ora di questa cena di stasera che vi vedo tutti insieme speriamo che vada tutto secondo i miei piani mi è venuta un'idea e se andassimo tutti a farci una pizza qui alla pizzeria all'anno? ma cosa dice? cosa ne faccio tutta quella bella roba che ho di là? eh beh la buttiamo e facciamo la pace perché? abbiamo litigato? no per oggi no ma ma chissà quanto rancore ha accumulato verso questo povero vecchio che parla ma non sa quello che dice che andrebbe perdonato non giustiziato e poi le voglio tanto bene ma senta tornando dal supermercato è passato al bar no per carità che poi raccolgo tutti quei microbi schifosi e sporco il divano allora ha bevuto direttamente al supermercato? no 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 ma se le va possiamo brindare ora faremo un brindisi a noi due alla pace ritrovata al pericolo scampato alla sua bellezza impericoso signor Malinverni alla sua età non si faccia pegnare dai raptus è tutto quello che dico basta con i raptus non avveneniamoci l'esistenza a proposito di veleno l'ho finito tutto quando ci vuole bisogna usarlo in quantità e cosa ci ha fatto di tutto quel veleno? ah ho fatto come nella pubblicità ho preparato una bella trappola per i nemici dell'igiene e chi sarebbero sti nemici? ne conosco qualcuno di questi nemici non mi faccia scendere nei particolari perché non vorrei proprio farle passare la fame e questa sera la deve avere perché le ho preparato una bella sorpresa anche a lei e a tutta la sua famiglia eh che bella festa figlio mio mi sembra di essere finito in un fiendisco io chiamo la policia c'è lei ci sono i miei c'è lei c'è lei aiuto mi senta adesso ecco come perché mi odia perché porto i microbi in casa devo chiamare Mastro Rindo cosa c'entra quella lì è matta è pazza come la signora Gilda di Parabiago ha capito commissario, maresciallo, brigadiere ha capito, mette il veleno nelle lasagne si mette a ridere, mi prende in giro lei ma come io denuncio un omicidio e lei mi prende per scemo lo so, lo so che per un omicidio ci vuole un morto ma io volevo evitare questo dettaglio ecco, come dice devo prendere la lasagna e portarla a fare esaminare lì da voi beh venite voi a prenderla, no? così portate via anche la Lucrezia Borgia qui d'accordo, io non tocco niente, vi aspetto eh tra quanto venite? tra una settimana una settimana c'hanno sempre una premura questi qua ha finito col telefono? quale telefono? sono cinque minuti che cerco di prendere la linea è sempre occupata la linea? non stavo parlando, era messa male la cornetta va bene, allora se permette telefono mia sorella poi mi faccio una doccia o preferisce farla prima lei? no no no, faccia pure prima le donne no no, è meglio che la faccia prima lei se la vede un po' strano strano? si? no, io sono sono calmissimo, sono normalissimo è calmo sarà rispondi franco rispondi franco, rispondi franco, rispondi franco niente, questi sono già usciti ma questi non sono mai stati puntuali in vita loro proprio oggi dovevano spaccare il secondo ora ammelo me lo libera questo telefono? liberissimo controllato adesso la linea c'è controllato c'è, c'è e adesso cosa posso fare? dove l'ha messo il veleno? qui, nel Vitell Cornè no o nella lasagna la lasagna che sta nel fordo oh, io ho avuto tutto anche il pane e no, no, no e se poi arriva la polizia e non trova il corpo del reato come fa ad arrestarla? e se arrivano Eva Morena invece si mettono a spiluccare e rimango senza nipoti orfano di nipoti meglio non rischiare o eh, io butto via tutti eccoli o forse è la polizia meglio, meglio se è la polizia giorno desidera, no? ci scusi siamo delle pompe funebre pompe funebre no, guardi non l'abbiamo ancora mangiato grazie infinito ma cosa vogliono? e senta, siamo venuti a prendere la salma la salma? vi ho detto che siete in anticipo tornate dopo cena mi scusi ma siamo stati chiamati per ritirare la salma del signor Bartoletti la salma di Bartoletti a Bartoletti? è morto Bartoletti? eh sì oppure Bartoletti chissà cosa avrà mangiato ma poi il Bartoletti abita al piano di sopra ah, oh, ci scusi ti ha sbagliato il piano ecco comunque, tenga cosa l'è? è il nostro biglietto da visita beh, lo dia Bartoletti poi arrivederci arrivederci tante belle cose non c'è mai un pezzo di ferro la polizia ecco ah, Nino buonasera signor Maribel buonasera caro mi scusi per fortuna venga 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 con me Nino mi dè una mano io devo andare via c'è mia moglie che sta male e chi se ne frega di sua moglie venga venga con me Nino venga venga caro venga ma io sono venuto apposta per dirle che mia moglie domani non può venire a fare le pulizie Nino, fa niente non perda tempo pochi secondi e avremo finito venga ah, grazie è il mio piatto preferito questo sì perché non sa quello che c'è dentro non lo faccio col tonno i capperi no, no, no lì c'è un ingrediente mi udente guardi venga, venga venga Nino faccia come me faccia ah, quanto scotta sto maledetto venga venga Nino qua ma che fa ma questo è uno schiaffo alla miseria sì meglio uno schiaffo alla miseria che un insulto alla vita e poi questo intruglio ammazzerebbe anche la miseria dai venga, venga venga Nino venga venga Nino venga venga butti dentro anche l'altro viteltone su ma perché? perché perché l'ha fatto la signora Romolo butti ma cucina così male no fa schifo ci mette il veleno ha capito che ci mette il veleno ma ma che dice ma ma perché dovrebbe metterci il veleno perché vuole ammazzare me e la mia famiglia butti dentro butta la roba butta ma si sente bene? sì 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 dai 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 mi sento bene perché non ho ancora assaggiato nulla ecco Nino ecco qua Nino bravo sì però lo porti via eh quando arriva la polizia io la chiamo e lei lo riporta su eh senti io non ci capisco più niente giù c'è il dottore per mia moglie io lo mando su così si fa dare una bella controllatina ma qui non ci vuole il dottore per me qui ci vuole un psichiatra per la signora Norma no? signor Malinverni eccola venga Nino non facciamoci vedere venga come Nino venga 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 signor Malinverni Nino appoggi lì appoggi lì ma dove è andato? oh c'è anche Nino sera sera ma cosa fa con quel sacchetto in mano? sacchetto ma qua il sacchetto ma cosa butta l'immondizia dal balcone? è caduta l'immondizia è caduta l'immondizia è caduta l'immondizia un colpo di vento è caduta l'immondizia ma quale colpo di vento? l'ho visto benissimo che ha fatto apposta beh io vado dove va lei? scusi mi volete spiegare cosa succede? eh niente non succede niente e grazie a Dio non succederà niente si può sapere cosa c'era in quel sacco? niente i rifiuti nel sacchetto dei rifiuti che c'è deve essere i rifiuti no? Nino vuole essere un po' più loquace cittonino 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 vede signor Malinverni è convinto che lei abbia avvelenato la cena? avvelenato la cena? ma siete impazziti? io non c'entro niente è lui responsabile niente mancia a Natale ma cosa inventa lei? no no signora Norma io non invento niente l'ho sentita sa? l'ho sentita con queste orecchie dire ti avveleno e poi ti schiaccio te e tutta la tua progenie l'ho vista io l'ho vista io con questi occhi con questi occhi l'ho vista con questi occhi proprio con la scatola del veleno in mano nega ancora se è capace assassina no non nego il veleno l'ho usato ah vedi che confessa l'ha usato il veleno? si ma per gli scarafaggi che ce l'ho pieno sotto il lavandino scarafaggi volete venire a vedere? ecco ma i scarafaggi ma ma come sono facci? qui ci sono ancora tutte le strisce bianche del veleno che ho messo vicino ai tubi dell'acqua che vengono su ecco questa casaccia è vero ce n'è uno morto ecco addio lo dice anche è così che lei tiene pulito il palazzo oh signora Norma allora lei non ce l'aveva con me ma cosa vuole che abbia con lei? ma mi ha preso per quella di parabiato sai com'è insomma il telegiornale tutti i suoi discorsi di stamattina insomma io mi sono fatto suggestionare ecco e poi scusi ma lei parla agli scarafaggi come se fossero dei mostri è inutile l'informazione nociva ai giovani ma anche agli anziani beh visto basta essere chiari ecco ora posso andare? vada vada ci scusi anzi lo scusi no no è lui è lui è lei caronino che si deve scusare per come tiene pulito il palazzo oh saranno loro no no forse è la polizia la polizia? ha chiamato la polizia sì ha chiamato la polizia nei film fanno sempre così ho fatto così anch'io ma il suo problema è che vede troppa televisione ciao ciao Gilema ciao Gilema buonasera Norma buonasera c'è una confusione qua sotto c'è un funerale eh sì Bartoletti ah sì 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 e Franco e i bambini stanno parcheggiando ma non trovano posto eh beh dì di non parcheggiare come non devono parcheggiare? perché? eh perché perché si va tutti in pizzeria sì in pizzeria? eh ma non avevate preparato le lasagne? eh ma abbiamo avuto un problema di forno purtroppo e mi sono bruciate e sono bruciate che peccato ma c'è il viteltonneto sì ma è bruciato anche quello l'avevo erroneamente appoggiato nel forno il viteltonneto erroneamente è bruciato ah ma non c'è nient'altro c'è il budino c'è il budino c'è il budino sì le l'avevo detto che c'era una sorpresa e mi era sfuggito e vabbè allora andremo a mangiare in pizzeria e poi torniamo su a mangiare il budino ecco bell'idea e il budino lo mangia lei? sì che lo mangio dopo di lei vabbè allora scendiamo? sì sì noi arriviamo subito va bene a dopo sì a dopo caro a dopo vado scusate a ridirci le mando tutti gli scarafaggi che trovo dopo va bene? signora Norma io io mi volevo scusare ma di cosa vuole scusarsi? non solo ma volevo anche ringraziarla per non avermi fatto fare la figura del cretino con i miei io faccio la governante il mio mestiere no lei non è una governante lei è una santa signora tutto è bene quel che finisce bene mi permette lasci vado io perfetto buonasera buonasera 113 e guardi come non detto falso allarme ecco si è trattato di un equivoco ma quale equivoco? qui c'è una bella querela querela? io non ho mica sporto querela lei no ma io ho una querela contro i gnoti da parte della famiglia Bartoletti e Bartoletti? cos'è successo? con la Bartoletti qualcuno ha lanciato dal terrazzino un sacchetto pieno di roba da mangiare ah non mi dica che hanno bombardato il funerale qui sotto? si non c'è rimasta una sola persona col vestito pulito qua sotto tutti sporchi di lasagne di viteltonè voi ne sapete niente? ha detto lasagne viteltonè si due tende di lasagne a ragù a ragù ah non siamo noi sa noi non mangiamo carne noi siamo vegetariani rigorosamente vegetariani grazie a tutti se